bella regà bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi regà vi faccio vedere un metodo per prendere le scarpette delle tute da racing e metterle su qualsiasi outfit quindi requisito avere l'abbonamento ls autoraduno ragazzi non mi ricordo se c'è questa voce anche su old fatemelo sapere nei commenti quindi andate sulla tipa e date sui completi racing dls ragazzi e a questo punto vi scegliete la tuta da cui prendere le scarpette io prenderò questa che ha le scarpette bianche con lo strappo dorato mi piacciono veramente tanto ragazzi a questo punto una volta selezionata la tuta semplicemente ci andiamo a dirigere verso un qualsiasi ragazzi negozio di vestiti di outfit una volta all'interno dovremo andare a interagire quella parte alta dei outfit a questo punto una volta qua andiamo su marche ragazzi e ci mettiamo la numero 1 senza maglietta nessuna parte superiore e a questo punto avremo già le scarpette cosa dobbiamo fare ora per farle comparire andiamo ragazzi sulla parte bassa andiamo su jeans e ci scegliamo i pantaloni che vogliamo mettere a me piacciono un sacco questi ragazzi e si vedono veramente bene anche le scarpette quindi lasciate un like lasciate un commento se vi è piaciuto il video e regà vi invito a guardare l'esplorazione del castello di forte sperone veramente veramente un bel castello ragazzi con una storia pazzesca scritta nella descrizione vi lascio il link qui in alto a destra ragazzi da oggi è tutto mi raccomando un bel pollicione raga e sbada bam alla prossima